Ciao amiche e ciao amici della lingua italiana! Nel video di oggi parleremo di alcuni modi di dire della lingua italiana con la parola carta. In realtà vedremo innanzitutto il significato della parola carta, alcuni modi di dire e alcune riflessioni che sento di dover condividere che riguardano la carta in generale. Prima di iniziare vi ricordo che se siete appassionati di lingua italiana, se studiate la lingua italiana e siete sempre alla ricerca di nuove risorse per lo studio della lingua italiana vi consiglio di iscrivervi alla newsletter che trovate in descrizione, è completamente gratuita e lo sarà per sempre e in questa newsletter ogni martedì o mercoledì invio link a canzoni, articoli, libri, modi di dire, siti in italiano che possono aiutarvi a studiare l'italiano o che possono aiutarvi a conoscere altre risorse per lo studio della lingua italiana che vadano ad interagire o vadano a collegarsi a quelli che sono i vostri interessi e non solo i miei. Come sempre fatemi sapere cosa vi piace della newsletter e cosa magari secondo voi potrei migliorare. Per quanto riguarda la parola carta, in italiano questa parola traduce due parole inglesi, la prima è card e la seconda è paper. In generale tutto quello che è una identity card o tutte quelle che sono card nel vocabolario anglofono sono anche carte in italiano. C'è carta d'imbarco, c'è la carta d'identità, c'è la carta di credito e la carta di debito. Dunque tutte queste questa categoria di oggetti è tradotta in italiano con la parola carta. Anche tutto quello che va sotto il nome di paper è tradotto in italiano con la parola carta. Quindi ad esempio in cucina abbiamo diversi tipi di carta, carta stagnola o carta alluminio, carta pellicola, carta forno, carta scottex... in realtà si chiama carta assorbente o carta per assorbire, ma siccome la marca scottex è diventata così egemone, è diventata così diffusa, il marchio ha dato il nome all'oggetto, dunque è più utilizzato il marchio o il nome del marchio ed è meno utilizzato il nome dell'oggetto stesso. Vi lascio qui un video fatto da Lorenzo Italissen in cui lui ha proprio parlato di questo tipo di parole e se non sbaglio ha fatto anche l'esempio con la parola scottex. Mi sono anche dimenticato di dire che ho fatto un video in cui parlo delle parole che riguardano l'aeroporto e ho parlato anche della carta d'imbarco, trovate qui il video e c'è una serie di vocaboli che potrebbero esservi utili nel caso in cui siate in aeroporto. C'è anche la parola carta d'imbarco. Per quanto riguarda i modi di dire della lingua italiana con la parola carta, il primo è giocare a carte scoperte oppure carte in tavola. Giocare è un verbo che non si riferisce in questo caso direttamente al gioco, ma si riferisce più al comportarsi o all'agire in maniera chiara. Ti pregherei di giocare a carte scoperte, ti pregherei di essere chiaro, di dire subito tutto quello che è vero. Potrebbe essere che io vada dal mio amico Antonio e Antonio mi dica sai Simone ti ho nascosto questa cosa e io potrei dirgli per favore gioca a carte scoperte perché altrimenti non so se fidarmi, no? Quindi questo è giocare a carte scoperte, significa giocare in maniera molto onesta con la persona che hai di fronte. La seconda espressione è carta canta, che non significa che la carta inizia a cantare, anche se sarebbe molto divertente. Carta canta significa che quello che c'è scritto sul contratto è il documento ufficiale ed è il documento su cui basarsi per le regole o per le decisioni da prendere. Se su un contratto c'è scritto che pagherò 500 euro al mese per ottenere un appartamento, il proprietario di casa non può venire domani e dirmi non paghi più 500 euro, ne pagherai 800 e io potrei dirgli guardi carta canta io devo pagare soltanto 500 euro. Quindi carta canta è un modo per dire che quello che c'è scritto sulla carta il più delle volte su un contratto, quindi su un documento ufficiale, è il documento di riferimento e dunque è il documento che decide chi ha ragione e chi ha torto. E' lo stesso principio di verba volant scriptamant, quello che c'è scritto sulla carta o quello che c'è scritto rimane ed è valido, mentre quello che è stato detto o che viene detto verbalmente non è valido, a meno che non venga scritto su carta. Avere carta bianca significa avere il pieno potere decisionale su qualcosa perché magari non capiamo di un argomento e preferiamo lasciare nelle mani di un esperto la decisione. Potrebbe essere ad esempio che venga un architetto in casa a dirmi secondo me questo soffitto dovrebbe essere alzato e la stanza dovrebbe avere una disposizione diversa e io potrei dirgli guardi faccia lei ha carta bianca, può fare quello che vuole. Avere carta bianca significa ha la completa libertà di fare quello che vuole o hai la libertà di fare quello che vuoi. Se qualcuno dovesse dirvi avete carta bianca oppure hai carta bianca significa che siete liberi e libere di fare quello che volete, nel senso che avete la fiducia di quella persona. Nel caso in cui io dica a un architetto hai carta bianca è perché mi fido estremamente di quella persona e quindi potrei dirgli guardi a carta bianca mi fido assolutamente. E da qui anche l'espressione mettere nero su bianco, ovvero il foglio vuoto o la carta vuota è spesso considerata come il bianco e mettere nero su bianco significa scrivere qualcosa che prima era stato detto solo oralmente o detto solo a voce e successivamente si è deciso di metterlo su contratto quindi metterlo per iscritto e dunque ci ricolleghiamo al verbo volant scripta manent. Volevo aggiungere una curiosità che è la dicitura cc quando scrivete le mail non so se vi capita di inviare la mail a un destinatario e mettere qualcuno in cc che sta per carta carbone o copia carbone. Praticamente in passato era molto più utilizzata. Esisteva questa carta con uno strato di carbone e nel momento in cui si scriveva qualcosa sul primo foglio il carbone copiava su un altro foglio quello che veniva scritto e questa carta carbone o carta copiativa era molto utilizzata nel caso degli assegni perché in questo modo io che do un assegno ad esempio al mio dentista so che ho dato un assegno ma ho anche la mia copia e dunque piuttosto che scrivere due volte la stessa cosa posso scriverlo una sola volta e dare un foglio al mio dentista dunque la persona a cui devo pagare tramite assegno e tenere una copia per me e dunque questo cc che noi leggiamo quando inviamo le mail viene proprio dal carta carbone o carta copiativa dunque i più anziani sapranno bene l'utilità di questo tipo di carta. Prima di concludere vorrei soffermarmi su un punto critico che riguarda la storia delle invenzioni dell'uomo perché spesso quando si parla delle grandi invenzioni dell'uomo la ruota o il fuoco o l'auto l'energia elettrica quello che volete gli aerei il volo non si parla o non si dà mai abbastanza giustizia a un'invenzione che secondo me è seconda soltanto al linguaggio cioè il linguaggio è la cosa più bella che l'uomo potesse inventare è la cosa che probabilmente ha distinto l'uomo dalle altre specie la seconda cosa che dà un grandissimo vantaggio all'uomo o che almeno nel passato ha dato un grandissimo vantaggio all'uomo è stata la scrittura e la scrittura è stata possibile grazie alla carta se non ci fosse stata la carta scrivere sull'argilla o scrivere sulle pietre era qualcosa di decisamente più scomodo decisamente meno scalabile decisamente meno fruibile se io avessi voluto leggere qualcosa potevo andare nel foro romano a leggere quello che c'era scritto sulle pareti oppure avrei dovuto incontrare Mosè e chiedergli di farmi leggere i dieci comandamenti oppure sarei dovuto passare da una caverna e trovare alcuni disegni e capire cosa altre persone o altri uomini o donne avevano cercato di scrivere per me e penso che sapere che nel passato se non ci fosse stata la carta e ovviamente se non ci fosse stata poi la stampante non ci sarebbe stata la cultura o il livello di sviluppo che c'è adesso e spesso penso ma perché non ci fermiamo mai a pensare all'importanza della carta perché non non ci soffermiamo mai a pensare a quelle che magari sono le cose più semplici e che diamo per scontate ma che in realtà sono delle invenzioni incredibili sono delle invenzioni che hanno cambiato il corso della storia volevo chiudere con questa riflessione magari probabilmente vi interessa di più la carta di credito la carta di debito perché potete andare a fare shopping e potete andare a fare le compere a me invece piace di più la carta perché si può scrivere posso scrivere il mio diario spero che questo video vi sia piaciuto come sempre ringrazio chi mi sostiene economicamente su Patreon e su Ko-fi nel caso in cui vogliate anche voi sostenermi trovate in descrizione i link per farlo nel caso in cui non possiate sostenermi potete iscrivervi gratuitamente attivare la campanella così che vi arrivi una notifica quando pubblico altri video che parleranno sempre di lingua italiana oppure di quello che mi passa per la testa collegato alla lingua italiana vi ricordo anche di scrivermi nei commenti se conoscete altre espressioni con la parola carta e se ci sono espressioni simili nella vostra lingua io vi auguro una splendida io vi auguro una splendida giornata mi ha appena suonato il timer perché sto partendo per strasburgo perché ci sarà una conferenza dove devo presentare dei dati ma in realtà quando pubblicherò questo video avrò già presentato i dati perché oggi è mercoledì presenterò i dati domani giovedì questo video uscirà domenica un po di problemi spazio temporali in realtà ho già finito di montare il video quindi uscirà domani che sabato e non domenica lo so simone del futuro ha preso il sopravvento ci vediamo presto ciao